Musica Ciao a tutti da Taigo e dal gruppo Critico Negativo Sono finalmente tornato dopo una piccola pausa d'agosto e primi di settembre dovuti, come vi ho spiegato in un piccolo video, a problemi lavorativi che impegnavano decisamente tutta la mia giornata e mi riducevano davvero stanco quindi non potevo... riducevano davvero stanco Ogni modo, siamo tornati, sono tornato con questo video che in realtà è piuttosto vecchiotto Siamo tornati con Minecraft e risale a quando ho deciso di costruire una casetta Vi avviso in partenza, ho intenzione di partire con una nuova serie di tipo un po' avventuroso nel senso che farò un pacchetto conosciuto, ovvero il Direwolf però non vi anticipo nient'altro non manterrò i soliti schemi, ovvero cercarsi una casa, eccetera eccetera Dunque, quindi vi lascio al video, che ovviamente velocizzerò Spero di riuscire presto a registrare i nuovi esipodi, come direbbe Totò, o episodi Ci saranno ovviamente gli altri video, più spero questa nuova serie su Minecraft E niente, buona visione Ciao a tutti 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 Ciao a tutti